Il rinnovamento Il rinnovamento si sposa con il rispetto dei principi di qualità e tutela del territorio all'agriturismo centro-rurale La Grotta, a Sant'Angelo Inferiano, località camminate in provincia di Pesero Rubino. Eccellenza della tradizione no gastronomica locale, l'agriturismo propone ai suoi ospiti nuovi spazi verdi per assaporare il piacere di una vista unica sulle colline marchigiane e sul mare adriatico. Un panorama di cui beneficiare dai tanti punti di relax che la grotta, sede privilegiata di cerimonie, matrimoni, convegni e eventi, può proporre. Che siano le sdraie poste sul giardino della casa rurale, il gazebo dove gustare sviziosi aperitivi o i giochi per bambini posizionati in tutta sicurezza nel verde che circonda la struttura. Luogo prediletto per gli amanti del verde e delle bellezze naturalistiche locali, l'agriturismo ristorante La Grotta propone cene e momenti di ristoro all'aperto, anche di sera, circondati dai colori e dai profumi delle piante e dei fiori. La cura del particolare, La Grotta lo riserva anche all'apparecchiatura e alla preparazione dei piatti. Tovagli e ornamenti personalizzabili per ogni occasione, per una tavola mai eccessiva o banale, pensata per far trascorrere ai propri visitatori momenti di autentica serenità. Il tutto è un'esplice, il tutto è un'esplice, il tutto è un'esplice, Il tutto viene esaltato dall'audacia di piatti innovativi e ricercati, realizzati con prodotti a chilometro zero e di certificata qualità. Ma non mancano i simboli della tradizione culinaria regionale, pasta fatta a mano, grigliate di agnello e cinghiale, tagliate di vari tipi, filetto con fragole e vino di viscere, dolci per tutti i gusti. Questo agriturismo è un luogo magico e ricco di storia. Qui è possibile scoprire l'atmosfera unica della Grotta di San Paterniano, patrono della città di Fano. La Grotta, nel 303 d.C., fu rifugio del religioso durante le persecuzioni contro i cristiani, per poi diventare residenza di numerosi religiosi remiti. I muri alla volta, formati da pietre di fiume rivestite da ghiaia, i due lecernai aperti in mezzo alla volta, sono le testimonianze di un accurato lavoro di ricostruzione, che rimane inalterato ancora oggi dopo 16 secoli. A ricordo di San Paterniano, le bottiglie di pregio, prodotte dall'agriturismo e realizzate con i vitigni locali con la procedura tradizionale. La casa rurale, ristrutturata di recente, offre particolari ricercati, camere comode e spaziose, arredate con gusto e provviste di ogni comfort, così come di appartamenti riservati. L'agriturismo e la Grotta dispone di un ampio parcheggio a pochi metri dall'edificio. La casa rurale, ristrutturata di ricostruzione, La casa rurale, ristrutturata di ricostruzione,